Oggi ho ricevuto comunicazione dal Ministro della Sanità che la Lombardia da lunedì entrerà in zona gialla. Credo che sia un ottimo risultato che spiega quello che da tempo stavamo dicendo, cioè che i nostri parametri stanno gradualmente migliorando e che la situazione sta andando verso un miglioramento complessivo. Ciò nonostante non dobbiamo distrarci, non dobbiamo pensare che sia finito tutto, dobbiamo cercare di rispettare quelle regole che sono state ripetutamente date, dobbiamo evitare che si rischi di ritornare in una situazione peggiore. Abbiamo raggiunto questo risultato, è un risultato che abbiamo raggiunto tutti facendo dei sacrifici, cerchiamo di salvaguardarlo. Stiamo attenti.